La duration, o durata finanziaria di un titolo, è una misura utilizzata nei mercati obbligazionari per valutare l'investimento effettuato e i rischi connessi ai cambiamenti dei tassi d'interesse. Viene espressa in giorni e anni e fornisce, a un dato momento della vita di un titolo, il tempo necessario perché esso ripaghi, con le cedole, il capitale investito inizialmente. Tassi di interesse e duration, un indicatore di volatilità un aumento dei tassi d'interesse fissati dalla banca centrale comporta un calo dei prezzi e dell'obbligazione e quindi un impatto sulle performance dell'investimento, con un aumento del tempo necessario a ripagare il capitale impiegato, cioè un aumento della duration. Questo indice serve quindi anche a misurare la volatilità di un titolo, quanto più è elevato, tanto maggiori saranno le escursioni di prezzo che subirà a causa delle variazioni dei tassi di interesse, perché è importante conoscere la duration di un titolo. L'impiego della duration nella gestione di un portafoglio di titoli obbligazionari è fondamentale, proprio perché eventuali variazioni dei tassi di interesse possono tradursi in forti perdite. Se si attendono rialzi dei tassi di interesse e quindi potenziali perdite, ad esempio, l'investitore in obbligazioni quindi può ridurre la duration del proprio portafoglio per comprimere il rischio tassi. Riducendo la durata, però, si riduce il rischio e quindi anche il rendimento. Gli investimenti in titoli che hanno duration più lunghe sono più sensibili al rischio collegato alle eventuali variazioni dei tassi di interesse, mentre quelli con duration più brevi tendono a essere più immuni da questo pericolo. Come si calcola la duration? La duration si ottiene calcolando la media ponderata delle scadenze temporali in cui saranno incassate le cedole e verrà rimborsato il capitale. Non coincide quindi con la vita residua di un titolo. Può essere tradotta come la durata media finanziaria. Viene espressa in anni e giorni. Ad esempio, 4,150 significa 4 anni e 55 giorni. Ma solo per le obbligazioni zero coupon, che non producono cedole, vita residua e duration coincidono. Esiste poi la duration modificata, ovvero la duration divisa per il tasso di rendimento attuale del titolo. In questo modo, si può vedere quanto si può guadagnare o perdere su un titolo al variare dei tassi. Se per esempio la duration modificata e 3, significa che a rialzo o ribasso di un 1% nei tassi di mercato il prezzo del bond scenderà o salirà del 3%. Il presente materiale di marketing è emesso da PICT e Asset Management, Europe, S. A esso non è indirizzato a, e non è concepito per la distribuzione a o l'utilizzo da parte di, qualsiasi persona o entità avente cittadinanza, residenza o ubicazione in qualsiasi località, stato, paese o giurisdizione in cui tale distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo sono in contrasto con norme di legge o regolamentari. Prima di effettuare qualsiasi investimento, è necessario leggere l'ultimo prospetto del fondo, del modello precontrattuale se applicabile, del documento contenente le informazioni chiave, il bilancio annuale e la relazione semestrale. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito www.assetmanagement.pict, o in forma cartacea presso PICT e Asset Management, Europe, S. A. 6B, Rue du Fortnider-Gwenhoed, L2226 Lussemburgo, o presso l'ufficio dell'agente locale, del distributore o dell'eventuale agente. Di centralizzazione del fondo. Il documento contenente le informazioni chiave è disponibile anche nella lingua locale di ciascun paese in cui il comparto è registrato. Il prospetto, il modello precontrattuale se applicabile, nonché il bilancio annuale e la relazione semestrale possono essere consultati anche in altre lingue. Si rimanda al sito web per le altre lingue disponibili. Solo la versione più recente di tali documenti è affidabile per prendere le decisioni di investimento. La sintesi dei diritti degli investitori, in inglese e nelle diverse lingue del nostro sito web, è disponibile qui su www.assetmanagement.pict è nella sezione risorse a piedi pagina. L'elenco dei paesi in cui il fondo è registrato può essere ottenuto in qualsiasi momento presso PICT e Asset Management, Europe, S.A., che può decidere di risolvere gli accordi presi per la commercializzazione del fondo o di comparti del fondo in ogni singolo paese. Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento non costituiscono una offerta o una sollecitazione per l'acquisto, la vendita o la sottoscrizione di titoli o altri strumenti o servizi finanziari. Tutte le informazioni, le opinioni e le stime qui contenute riflettono un giudizio espresso al momento della pubblicazione e sono suscettibili di modifica senza preavviso. La società di gestione non ha preso alcuna misura atta a garantire che i fondi indicati nel presente documento siano adeguati per un particolare tipo di investitore. Il presente documento non deve pertanto sostituire un giudizio indipendente. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale dell'investitore e può subire modifiche nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si raccomanda all'investitore di verificarne l'appropriatezza tenendo conto in particolare della propria conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, dei propri obiettivi di investimento e della propria situazione finanziaria, ricorrendo ove necessario a una consulenza professionale specifica. Il valore dei titoli o degli strumenti finanziari menzionati nel presente documento, e il reddito che ne deriva, possono tanto aumentare quanto diminuire e vi è la possibilità che l'investitore non ottenga in restituzione l'intero capitale originariamente investito. Le presenti linee guida per gli investimenti sono linee guida interne soggette a cambiamento in qualsiasi momento e senza preavviso, nei limiti del prospetto del fondo. Gli strumenti finanziari menzionati vengono indicati unicamente per finalità illustrative e non devono essere considerati come una offerta diretta, una raccomandazione di investimento o una consulenza per gli investimenti. Il riferimento a un titolo specifico non costituisce una raccomandazione per l'acquisto o la vendita dello stesso. Le allocazioni effettive sono soggette a cambiamenti e potrebbero essere cambiate della data del materiale di marketing. Le performance del passato non sono indicative e non costituiscono una garanzia dei rendimenti futuri. I dati relativi alla performance non comprendono le commissioni e gli altri oneri addebitati al momento della sottoscrizione o del rimborso delle quote o azioni. Tutti i dati dell'indice qui riportati restano di proprietà del fornitore dei dati. Le note legali del fornitore dei dati sono disponibili su Asset Management. PICT è nella sezione Risorse a pie di pagina. Il presente documento è una comunicazione di marketing messa da PICT e Asset Management e non rientra nel campo di applicazione dei requisiti MIFID 2 MIFIR specificamente collegati alla ricerca per gli investimenti. Questo materiale non contiene informazioni sufficienti per supportare una decisione di investimento e non deve costituire la base per valutare i meriti di un investimento in qualsiasi prodotto o servizio offerto o distribuito da PICT e Asset Management. PICT non ha acquisito i diritti o l'autorizzazione per riprodurre i marchi commerciali, i logo o le immagini riportati in questo documento, a parte il suo diritto di utilizzare i marchi commerciali del gruppo PICT unicamente per finalità illustrative.